Musica Ci siamo incontrati oggi in questa occasione particolare con l'aiuto anche della FIDAPA di Soveria Mannelli dell'associazione Città del Sole di Locri e Musicami per parlare di musicoterapia e nello specifico per parlare della necessità ormai di trovare un percorso di riconoscimento nell'ambito sociosanitario della figura del musicoterapista. La musicoterapia ormai di fatto è presente in tutte le strutture sia private che pubbliche sebbene con la formula del progetto in più contesti sia con gli adulti psichiatrici sia con la fascia pediatrica. Pertanto ormai il CUM che è questo movimento unitario musicoterapistico è nato un paio di anni fa a livello nazionale si sta battendo per riuscire ad ottenere il risultato del riconoscimento. La giornata di oggi serve per dare consapevolezza anche nel nostro territorio dove la presenza di musicoterapisti non è particolarmente nutrita come in altre regioni ma forse per noi ancora di più diventa importante avere un riconoscimento per poter lavorare con maggiore tranquillità e avendo dei diritti riconosciuti. Le mie colleghe mi hanno dato una mano a dare un'idea di quello che è la musicoterapia, di come funziona il nostro lavoro e ringrazio sicuramente il preside del liceo Costanzo che è sempre così disponibile a qualsiasi proposta che arrivi da parte nostra. Grazie a tutti.